Determinazione, entusiasmo e professionalità, peculiarità delle donne e uomini messe in campo quotidianamente, ribadite dal questore di Taranto Massimo Gambino in occasione della festa per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato. Sul palco oggi c'è il questore, non ci sono tutti gli attori che oggi sono qui presenti e alcuni non sono qui presenti perché stanno continuando la loro attività, chi in questura e chi sul territorio. Quindi il messaggio è questo, noi ci siamo sempre anche in una giornata di festa e continuiamo a esserci sul territorio. Taranto e la sua provincia hanno possibilità immense da sfruttare per scrollarsi di dosso uno stigma. Esserci sempre sul territorio significa garantire la sicurezza e la percezione della stessa. Il coordinamento e l'azione comune delle forze di polizia sono importantissime perché venga salvaguardato il diritto di manifestare ma nel contempo anche la sicurezza della comunità e la percezione della sicurezza che la comunità stessa ha. Dopo l'università e il quartiere Porta Napoli quest'anno la polizia sceglie la sede della Camera di Commercio a consolidare la vicinanza al mondo dell'imprenditoria, volano economico del territorio. E' indubbia la vicinanza della polizia di Stato alla città di Taranto da sempre per carità, quindi su questo non credo che ci siano parole da spendere. E' caratteristica e particolare la sensibilità che ha mostrato il questore e tutta la polizia di Stato nel volerla festeggiare nella cittadella delle imprese per testimoniare la vicinanza a un sistema imprenditoriale che soffre. Grazie perché mettete il cuore oltre l'ostacolo sono le parole del sindaco della città bimare, presidente della provincia ionica, Rinaldo Melucci. Un grazie agli uomini e alle donne della polizia di Stato per quello che fanno buttando il cuore oltre l'ostacolo, a volte anche oltre i loro compiti stretti, come dire, istituzionali. Grazie a chi c'è sempre con umiltà, disciplina e rispetto delle libertà democratiche, al lavoro per condurre la provincia ionica verso lì di migliori e performanti.